E' un'epoca di progetti Tomo, ancora Brozovic, forse pensa anche al tiro, lo prova col destro, Martello Brozovic Palla dentro, la conclusione, è l'intero in vantaggio, dopo 6 Martello Brozovic, palla nel rete, il 3-0 Posizione regolare, Icardi la tocca per Brozovic, tutto regolare, Brozovic con il tocco sotto Inter 2, Napoli 0 al minuto Brozovic, a sua destra, e Brozovic va per il gol e scorrere, un bellissimo straccio Riccardi controlla, poi Brozovic, Brozovic Gio Mario, ma nel calcio d'angolo a cercare un colpo di testa che non arriva, occhio al destro di Brozovic Entra in area di rigore, Gio Mario con la punta dentro da Brozovic, col destro Inter 2, Genoa 0 Perisic che ci arriva di testa, lo scarico per Brozovic, di testa Brozovic, arriva il gol dell'1-2 Pallone perisic all'indietro, per Brozovic la conclusione, il gol, il gol di Brozovic Arriva anche Andreva, l'ha vinta, poi il gol dentro, Brozovic Il gol dell'Inter Va ancora Brozovic, che donpietta In area c'è in tanti, pallone all'indietro, Brozovic Brozovic, 2-0 Inter Prova a tirarete, allora arriva Brozovic ancora, Brozovic col destro E fanno 3 per l'Inter Il gol di rigore, colpo di testa da lontanare, Brozovic con il destro, il tiro E' gol, e' gol, e' annullami, anche questo Trasso al centro, con questo da lontanare, Brozo col sinistro E' gol, e' gol, e' gol, e' gol, e' gol His face And that's Brozovic Grazie a tutti. Grazie a tutti.